Licia Nunez vuole diventare madre. La quarantenne, che reduce dall'ultima edizione del grande fratello VIP, ha parlato del desiderio di avere un figlio. L'attrice, che è stata a lungo legata a Ima Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi, pensa che sia arrivato il momento di mettere su famiglia con la compagna Barbara. Le due sono una coppia da quasi tre anni e convivono a Roma. A Vanity Fair, Licia ha spiegato. Vorrei diventare madre, adesso sono pronta. Quando ho conosciuto Barbara, gliel'ho detto subito. Lei ha capito il mio desiderio di maternità maturato in questi anni. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste. L'ora sembra finalmente arrivata. Grazie.